Ancora un cordiale saluto e ben ritrovati i gentili telespettatori per questa nuova edizione del telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia, telegiornale che apriamo con un'intervista all'assessore Santoro, parliamo di viabilità dove è al vaio la posizione ANAS per quanto riguarda la New Co che deve gestire le autostrade, sentiamo. Assessore Santoro, c'è effettivamente questa possibilità che l'ANAS non entri nella New Co e se sì che cosa accade? Io credo che in questo momento sono in corso una serie di approfondimenti tecnici come è doveroso dopo che Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto e ANAS, delega del Ministero delle Infrastrutture, hanno firmato il memorandum of understanding e quindi l'idea di formare appunto questa nuova società. È evidente che come tutte le cose che hanno una loro complessità adesso necessitano di alcune verifiche soprattutto in sede europea e quindi lasciamo che ci siano queste verifiche puntuali e dopo vedremo quali saranno i passi da intraprendere. Come dico adesso si stanno facendo tutta una serie di verifiche puntuali sulle modalità con le quali tutta questa operazione deve e può attuarsi. Nel caso effettivamente l'ANAS non potesse entrare nella New Co anche a fronte, nonostante la firma del memorandum? Io credo che le due regioni sono assolutamente consapevoli che ci possono essere delle opzioni quali ad esempio la capitalizzazione da parte delle regioni della nuova società ma non solo quella saranno valutate eventualmente nel caso in cui questo caso si presentasse concretamente. E per quando è previsto l'appuntamento della verifica, diciamo l'appuntamento a Bruxelles? Ma io so che il Ministero sta prendendo contatti appunto con le commissioni e quindi credo che nelle prossime settimane questo succederà. Per sconfiggere il tumore della mammella bisogna avere i numeri giusti, ossia quelli delle simulazioni che permettono di ricostruire i meccanismi di funzionamento delle proteine coinvolte nella malattia in modo da disegnare farmaci sempre più mirati e selettivi. Lo dimostra uno studio che è andato dritto al cuore di una famiglia di molecole cruciali per l'insorgenza e la cura del tumore del seno e non solo. Pubblicato sul Journal of Physical Kermistry Letters è stato condotto dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, la Sissa e dal capoluogo Giuliano con l'Istituto Officina dei Materiali del CRN di Trieste, l'Istituto di Ricerca in Biomedicina di Belinzona e l'Università della Svizzera Italiana, grazie al sostegno della IRC. Attraverso le simulazioni numeriche i ricercatori sono riusciti a svelare ciò che gli esperimenti non avevano mai mostrato, ossia il meccanismo di funzionamento dei citocromi P450, enzimi che hanno un ruolo fondamentale nel metabolismo di diversi ormoni e farmaci. E rimaniamo adesso in regione, nuovi sviluppi per l'orchestra Mitteleuropa. Vediamo il servizio con l'intervista all'assessore Torrenti che ha incontrato i sindacati. Assessore Torrenti, da questa riunione è emersa la volontà di consolidare una situazione che precedentemente era pessima e oggi invece ha ampi margini di miglioramento ed è stabile. Sì, l'orchestra sinfonica nel 2013 era veramente in difficoltà, era sciolta di fatto, era senza finanziamenti e non si pensava di poterla rilanciare. Dall'ottunno del 2014, in modo particolare, poi nel 2015 con l'assunzione a tempo determinato si è voluto fare una scelta di investimento con la forte disponibilità dei lavoratori di fare un sacrificio anche rispetto al loro futuro e è stata colta. Lo sviluppo c'è stato, in questi due anni sono stati grandi miglioramenti dal punto di vista anche dell'attrattività dell'orchestra, un sviluppo che ancora è in una fase comunque non conclusa ovviamente e oggi abbiamo fatto il punto su questo, quindi non dobbiamo preoccuparci per una prospettiva su cui la volontà di investimento c'è sicuramente. Dobbiamo ancora affinare alcune modalità di lavoro, devono loro, dal punto di vista della qualità e della costanza, l'associazione ha un nuovo presidente, un nuovo consiglio direttivo molto autorevoli e quindi ci sono tutte le condizioni per poter incrementare questo sviluppo che sicuramente per gli ultimi due anni ha avuto una grande positività. Confidiamo che gli sforzi fatti fino adesso dalla regione diano una risposta anche ai lavoratori che ovviamente sanno diciamo di dover continuare a lavorare insomma per poter confermare le loro prospettive, ma il problema ovviamente come tutti i lavori artistici è che non è un problema di difendere semplicemente stipendi ma di rendere indispensabile a questo territorio l'esistenza dell'orchestra ed è su questo veramente che è la vera sfida e pensiamo che si possa nel tempo vincere. Tasse sugli immobili inalterate anche per quest'anno a Cividale del Friuli confermata anche l'esenzione per i terreni agricoli per non aggravare il carico fiscale sui contribuenti il Comune ha scelto, dichiara la vice sindaco Daniela Bernardi, di confermare anche per l'anno 2017 le aliquote IMU e tassi già in vigore dell'anno precedente. Le aliquote IMU peraltro stabilite in misura pari a quelle di base previste dalla normativa sono per l'abitazione principale 4 per mille solo per la categoria A1, A8 e A9 con detrazione fino a 200 euro. Per le seconde case, gli altri immobili, aree negozi eccetera è previsto per il 7,6 per mille. Per le aree prefabbricabili restano inalterati i valori in vigore dal 2008. Le pertinenze dell'abitazione principale possono essere fino a 3 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7. La liquota tassi è unica pari all'1 per mille per la fattispecie imponibili. Le abitazioni principali sono categorie A1, A8, A9 e fabbricati rurali strumentali. Adesso andiamo ancora a Trieste, ai microfoni l'assessore Panarini che parla di lotta al bullismo omofobico. Assessore Panariti, oggi è la giornata mondiale contro la omotransfobia e in questo convegno voi affrontate vari aspetti di questo problema. La regione comunque è sempre in prima linea. Certo, in questa giornata e in questo convegno si affrontano tutti i temi che riguardano la cultura e come a scuola e magari l'orientamento delle persone e dei grandi poeti o degli scrittori non è noto e si ragiona anche su quelli che sono stati gli interventi che la regione ha fatto contro il bullismo omofobico. Noi siamo in prima linea contro la lotta al bullismo, nella lotta al bullismo e abbiamo fatto anche un'indagine sulla nostra regione in cui abbiamo capito come le parole siano importanti e come sia importante ragionare insieme cultura, scuola, regioni, istituzioni quindi in una rete che ci comprende tutti proprio per evitare che i diversi modi di stare al mondo delle persone quindi quelli che riguardano il loro orientamento sessuale siano oggetto di discriminazione. Qui oggi siamo appunto a dire che ogni discriminazione è sbagliata. Sono aperte fino a venerdì 16 giugno le iscrizioni ai punti verdi estivi per i bambini dai 3 ai 6 anni i punti verdi gestiti dall'Opera Sagra Famiglia per conto del Comune saranno aperti dal 3 al 28 luglio dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle ore 17 alle scuole di infanzia in Viale Libertà e in Viale Martelli a Pordenone. I costi di frequenza sono di 190 euro per 4 settimane e di 168 euro per 3 settimane consecutive. L'accesso è riservato ai residenti a Pordenone. Qualora al termine delle iscrizioni rimangano posti disponibili potranno essere inseriti bambini non residenti previo accordo con l'ufficio scolastico del Comune. E ancora a Regione ci sono 11 milioni e mezzo per gli ATER. Sentiamo l'intervista all'assessore Santoro. Assessore Santoro, 11 milioni e 400 mila euro alle ATER regionali. A cosa serviranno queste risorse? Sì, abbiamo confermato anche quest'anno questo importante stanziamento per l'abbattimento dei canoni ATER e per le spese di manutenzione che riguardano gli alloggi ATER. È un'importante somma che stiamo garantendo annualmente e che quest'anno è stato ripartito secondo i nuovi criteri che sostanzialmente portano nei fatti a delle cifre pro capite analoghe agli anni scorsi che riguarda l'accettazione del verbale dei direttori delle ATER stesse che hanno appunto la facoltà di ripartire questi fondi secondo le reali necessità. Questo riparto è stato fatto per il solo 2017 in quanto è evidente che la ripercussione della rimodulazione dei canoni poi potrà portare a delle compensazioni tra le ATER essendo questo fondo anche finalizzato al tema della copertura dei canoni minori. E con questo servizio gentili telespettatori termina l'edizione regionale del Friuli Venezia Giulia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon fine settimana.